La casa del grande fratello torna al centro dell'attenzione per la nascita di una nuova intesa tra due concorrenti, Elena Prestes e Xavier Martinez. I due geffini hanno mostrato segni di una crescente affinità, scatenando il dibattito tra i telespettatori. I video che li ritraggono insieme nel letto stanno facendo il giro del web, alimentando le speranze dei fan che vedono in loro una possibile coppia. Elena e Xavier, entrambi con esperienze nel mondo dello spettacolo, sembrano aver trovato conforto l'uno nell'altra dopo essere stati abbandonati dai loro precedenti interessi amorosi. La modella brasiliana ha confessato di apprezzare i momenti di vicinanza con il pallavolista argentino, mentre lui ha risposto con dolci parole e gesti affettuosi. Tuttavia, la loro relazione è oggetto di critiche e sospetti, con alcuni che insinuano che stiano cercando di sfruttare la situazione per creare dinamiche nel reality. Nonostante l'affetto che sembra crescere tra Elena e Xavier, il pubblico è diviso. Molti applaudono la nuova coppia, mentre altri esprimono scetticismo. Alcuni utenti sui social network mettono in discussione la sincerità dei loro sentimenti, suggerendo che entrambi siano ancora interessati ai loro ex partner. La situazione si complica ulteriormente, poiché la relazione tra Lorenzo e Shaila è stata accolta con freddezza da alcuni fan, che vedono in essa un tradimento nei confronti di Xavier. La domanda che tutti si pongono è se Elena e Xavier stiano davvero costruendo qualcosa di autentico. Mentre i fan sperano in una storia d'amore tra i due, il contesto del grande fratello è pieno di insidie e dinamiche complesse. I concorrenti dovranno affrontare pressioni esterne, emozioni e legami passati. Solo il tempo dirà se questa nuova relazione avrà un futuro.